E' stato presentato oggi in Confindustria il manuale di responsabilità sociale delle imprese redato da Sergio Corso e Carmelo Miduri. Il manuale ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese a raggiungere gli obiettivi previsti dell'agenda 2030 dell'ONU e dalle normative europee e nazionali sulla responsabilità sociale delle imprese. Noi abbiamo preso atto di un trend, quello della responsabilità sociale di impresa, che è molto attuale, molto in linea con le attese delle imprese da un lato e dei territori dall'altro lato, dell'opinione pubblica, eccetera. Partiamo dall'agenda 2030 dell'ONU e sviluppiamo una serie di standard, di applicativi per la responsabilità sociale di impresa molto interessanti che fra poco potrebbero anche diventare obbligatori non solo per le grandi imprese, oltre 500 dipendenti come adesso, ma anche per le piccole e medie imprese e oggi siamo qui appunto per loro. Creare una cultura sulla qualità rispetto alla CSR o alla responsabilità sociale, che dir si voglia, ci è sembrato interessante. Quindi adesso le imprese sono chiamate a realizzare questi percorsi che sono di qualità, che sono di miglioramenti, che sono di rispetto del territorio e di tutti gli stakeholder che oggi un'impresa ha. Un manuale che ha anche un piccolo grande aiuto per la piccola e media impresa? Il concetto di responsabilità sociale di imprese è un concetto che sta permeando sempre più anche nel mondo delle piccole e medie imprese. Avere un manuale, un punto di riferimento che in qualche maniera delinie, per linea di massima, quelli che sono i concetti, quelle che sono le metodologie che si possono utilizzare per entrare a pieno da protagonista in questo mondo è sicuramente uno strumento utile. Ma l'utilità soprattutto sarà nel mettere in campo e in pratica certi indirizzi che vengono proprio nell'applicazione del metodo della responsabilità sociale, perché questo dà maggiore appeal alle aziende, dà maggiore credibilità, dà soprattutto una maggiore competitività anche. Questo nuovo strumento, questo nuovo concetto, per chi lo utilizzerà e lo utilizzerà bene, sarà un ulteriore strumento per essere più competitivi nel mercato in cui operano le singole aziende. Da dove nasce questa idea e come si è sviluppato il progetto? Dopo tanti lavori fatti, insieme all'amico Miduri, ci è venuta la seguente domanda, ma è tutto chiaro? Cioè è il principio della sostenibilità, i fondamenti più elementari di questa cosa che è importantissima per il domani di tutti noi? È chiaro e comprensibile, ad esempio, al teatro delle piccole e medie imprese e da lì è nata l'idea di fare questo manuale. La responsabilità sociale nelle imprese è anche per gli studenti universitari e che probabilmente diventeranno anche i futuri imprenditori. Sì, certo, gli studenti universitari rappresentano i futuri stakeholder, quindi possono essere il cliente, l'imprenditore, il politico che rappresenta il territorio. Di conseguenza è fondamentale, soprattutto nelle facoltà tecniche, come economia, ingegneria, ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, chimica, dare la possibilità di capire i passi per definire quello che poi alla fine è appunto il rapporto della sostenibilità, che oggi tutte le aziende devono percorrere, non solo le grandi aziende, ma a mio avviso anche le piccole aziende. Quindi dare la possibilità allo studente attraverso un vademecum che dà una sintesi degli step fondamentali. Lo studente vede tutto quello che gli è stato spiegato durante il percorso, che non è solo la teoria, l'approccio fisico-matematico, ma vede convergere un'azione. Da una base economica ci spingiamo fino al filantropico, quindi alla responsabilità dell'ambiente e del territorio.